Scuola Nuova SRL nasce il 21 dicembre 2012, il giorno che i Maya avevano indicato come ultimo di questo mondo. Quella sera doveva verificarsi la fine del mondo, noi inauguramola a scuola e lanciamo così questa importante iniziativa imprenditoriale. Inizialmente la nostra attività è stata concentrata sui corsi autofinanziati in ambito sociosanitario e nel settore beauty, nel settore del benessere che noi indichiamo con i corsi di acconciatori, di estetiste, di operatori olistici, di attuatori e tanti altri. Successivamente con l'impegno costante della detengenza, dei collaboratori e dei nostri docenti, siamo da qualche anno lavorando anni nell'ambito dei corsi finanziati. Abbiamo fatto delle bellissime esperienze nelle nostre sedi con l'ITIA, con Garanzia Giovani, recentemente con IFP e soprattutto da qualche mese con il programma Pargol che ci sta dando grandi soddisfazioni. Scuola Nuova è ubicata sul territorio della regione Campania su diverse sedi, in Altirpinia nella bellissima sede di Rioni, nel Cilento, altrettanto bella sede di Policastro Bucentino, la prima nascita è la sede che stiamo filmando oggi di Eboli, successivamente siamo andati anche a Salerno, abbiamo fatto una splendida sede sul Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri da questo teatro. Da scuola di formazione, da ente di formazione che all'inizio era nato, oggi siamo una vera e propria azienda, con tantissimi dipendenti, collaboratori, docenti, promoters e soprattutto tantissimi, tantissimi partner. Noi abbiamo avuto sempre, anche dall'inizio, la motivazione, la voglia di creare delle attività formative che portassero direttamente nel mondo del lavoro, quindi la nostra mission inizialmente e soprattutto oggi era quella della formazione e del lavoro, non la formazione per il lavoro, semplicisticamente ma preparare le persone per poi accompagnarle realmente nel mondo del lavoro e oggi con questa nostra idea imprenditoriale iniziale abbiamo raggiunto dei grandi risultati e il duro lavoro che ogni giorno ci impegniamo a fornire a tutti i nostri arrivi, a tutti i nostri collaboratori, ci sta portando ad avere delle grandi e grandissime soddisfazioni. Io sono Giuseppe Bisogno, il presidente e l'amministratore unico di Scuola Nuova, lavoro in questo settore dagli anni 90, dal 91 precisamente e oggi la mia più grande soddisfazione è aver trasformato il nostro ente di formazione in una vera e propria azienda, di avere tantissime persone a cui diamo lavoro, tantissime persone che grazie a noi sono entrate nel mondo del lavoro e per un imprenditore questa è la più grande soddisfazione. Al di là dei risultati economici, al di là dei risultati di crescita aziendale, portare delle persone al lavoro, dei giovani al lavoro, per noi è il nostro grande sogno che si realizza finalmente.